Fresca di restyling e di punteggi record nei test di sicurezza, grazie ai quali ha ottenuto le 5 stelle Euron Cup, la Subaru Outback si presenta sul mercato dimostrando che ha ancora molto da offrire. Rivolta ad uno stile di vita attivo, nuova Outback si pone come strumento per conoscere ed esplorare la natura e il linguaggio stilistico è quello della precedente versione, ma aggiornato con gusti moderni, con tridimensionalità e linee orizzontali marcate. Le protezioni a contrasto che contornano la parte bassa della vettura ne evidenziano lo spirito avventuriero, con un risultato estetico convincente e in pieno stile Subaru. Sotto al cofano troviamo l'affidabile propulsore Boxer, accoppiato alla trazione integrale. L'Outback è disponibile esclusivamente con il 2 litri e 5 benzina, a quattro cilindri. La sicurezza è tra i suoi punti forti, anche tramite la parte attiva. I diversi sistemi di assistenza alla guida comunicano tra loro. Grazie alle telecamere intorno al perimetro della vettura, il sistema iSight è in grado di analizzare la situazione di pericolo ed effettuare la manovra di emergenza più sicura. L'obiettivo raggiunto è quello di una sicurezza intelligente.